Inaugura oggi Fior d'Albenga, un mese ricco per la città delle torri, colori, musica e tanti eventi. Sì, oggi si inaugura la 14esima edizione di Fior d'Albenga dal 15 aprile fino al 14 di maggio, un mese ricco di iniziative e apre i battenti appunto questa mattina con l'inaugurazione, con già un mercatino allestito in piazza 4 Novembre e tutte le aiuole dei famosi comuni che già da alcuni anni, si sono integrati anche quest'anno, hanno deciso di partecipare. Qua vicino sentiamo la musica che arriva dall'aiuola di Garlenda che ha realizzato di fatto un pat da golf e insieme alla collaborazione della 500 parteciperà all'inaugurazione vera e propria di questa giornata. Collaborazione anche con evento di Andorra e quindi eventi anche al mare. Sì, il concetto che si sta cercando di portare avanti è non dimenticarsi di tutte le parti importanti sicuramente della città oltre al centro storico che è il nostro Fior d'Albenga in centro storico ma grazie anche all'inventiva del viale che è aderito a questo mese con l'allestimento degli ombrelli coloratissimi anche il mare avrà oggi un momento dedicato legato appunto all'esibizione degli aquiloni grazie all'altra collaborazione cioè con i comuni di Andorra e l'associazione evento sempre di Andorra. Vogliamo solo ricordare chi vuole seguire tutti gli appuntamenti, come può fare? Ci sono social e pagine dedicate? Esatto, da quest'anno è nata la nuova pagina Facebook di Fior d'Albenga come il canale Instagram piuttosto che il nuovo sito www.fiordalbenga.it dove si potranno trovare tutte le novità, tutti gli eventi, il calendario le varie iniziative che in questo mese faranno vivere il centro storico in una luce e in colori diversi cioè quelli dei fiori delle nostre produzioni agricole e floricola della Piana d'Albenga.